ciao a tutti e a tutte benvenuti e bentornati nel mio canale allora mi è appena arrivato un pacco da astra un pacco da astra make up non so cosa sia li metto sotto il link del sito e se riesco anche il link dei prodotti a make up capiamoli stiamo insieme sinceramente non so cosa sia forse la collaborazione che ho richiesto e che mi hanno accettato stranamente mi hanno accettato una collaborazione perché prendo le forbici spero che riusciate a vedere perché fuori da me nevica questo è il pacchettino con scritto astra make up e andiamo ad aprire togliamo via la sua il suo fermo insomma il blocco per non far aprire ad estrarre il pacco ok bellissimo allora questo è il pacchettino con astra make up molto molto bello un fogliettino con scritto ciao loretta grazie mille saremo davvero felici di conoscere il tuo opinione riguardo i nostri prodotti facci sapere cosa ne pensi con un post sui tuoi social taggaci utilizzando l'hashtag astra make up e seguici sui nostri profili ufficiali astra make up instagram e facebook astra make up don't don't forget to be molto 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 carini qui c'è qui c'è il insomma il specie di fattura ok ok allora sacchettino questo è vuoto e qua dentro ci sono i prodotti c'è il logo astra e ci ho affonato benissimo allora ci stanno questo sacchettino questo cosa qui c'è vuoto buttiamo buttiamo ok ok si è la collaborazione che avevo richiesto con astra che mi hanno accettato e mi è arrivata allora ho scelto questo pennello base occhi e vi dico anche il prezzo così magari allora i brush 3 e 90 poi sono incartati singolarmente vediamo quali entro cosa c'è sinceramente non mi ricordo che cosa ci sia perché e vi chiesto la collaborazione tanti 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 mesi fa dopo mi sono trasferita e niente allora ok e sempre astra la matitone occhi full color nella tonalità 64 che è questo colore qua molto bello e il matitone ombretto viene allora, quello del 64 si chiama mermaid tear, viene 3 euro poi, correttore liquido in penna nella tonalità 01 come si apre? ok, bisogna fare tipo come quello della Kiko correttore in penna tonalità light 3,90 poi cipria in polvere libera nella tonalità niente velvet skin loose powder polvere di riso numero 01 quindi cipria in polvere poi vediamo che cosa ah si, la cipria veniva 4,90 ok poi mi sono fatta mandare questa palette palette nude forever per un look nude perfetto per un make up da giorno tonalità 01 mmm bellissima molto molto carina questa è la palette 6 ombretti molto carini e la palette viene 2,95 e niente questo è tutto il video in collaborazione con Astra facchetti da buttare e niente spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spollicciate attivate la campanella per ricevere le notifiche dei miei video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao